Mettetevi comodi perché 8 a 4 è stato il punteggio, mettetevi comodi perché è andato in scena lo show della Domus Bet Catania Beat Soccer, uno show che ha divertito tutta l'arena di Terracina e il Catania è approdato in semifinale per il quinto anno consecutivo. Della Negra ha subito proposto un roster molto molto aggressivo con Rodrigo e Fred e proprio Rodrigo a firmare il suo primo gol di stagione dopo appena 6 minuti di gioco e ha dato il là alla vittoria meritata e strameritata di Catania nonostante anche il pareggio di Ardizione che è stata solo una mosca bianca nel mare di nulla della Catanese. Poi dominio totale da parte dei rossazzurri, la traversa di Maradona, lo show anche di Gabriel che sfiorava il gol del 2 a 1 fino al palleggio e alla grandissima qualità come questo gol di Dieghito Maradona. Il numero 10 si infilava benissimo nelle maglie della difesa della Catanese e firmava il 2 a 1 che riportava sopra la formazione rossazzurra. Attenzione perché poi sì la Catanese non mollava ma era solamente un fuoco di paglia, solamente del mestre si esaltava e si guadagnava la pagnotta stagionale fino alla combinazione tutta volante. Bosco, Fred e Rodrigo al volo di destra a mettere dentro il 3 a 1 del primo tempo. Lo spettacolo della Domus Bet Catania fino al libero sul finile del primo tempo concesso dall'arbitro dove ancora Rodrigo firmava il gol del 4 a 1 a chiudere la prima frazione. Nella ripresa l'invidia era quella di Zurlo che voleva subito mettere al siculo il risultato e subito Zurlo era lì presente col destro a mettere dentro il quinto gol, il suo primo sigillo anche per lui in questa stagione e in questa competizione della Coppa Italia. Il goloso Zurlo continuava ancora, stavolta era Nico ad andare lì con lo scavetto e lui arrivava in maniera perfetta col sinistro sul primo palo a raddoppiare ancora una volta. Per la formazione di Catania che prendeva il largo non si fermava più, la Catanese era ormai in totale balia e guardate ancora Maradona che provava la conclusione e poi dipingeva la traiettoria per un Ortolini sfrontato che in sforbiciata metteva dentro il suo secondo sigillo stagionale in questa Coppa Italia buttando il punteggio sul 7 a 1. Una partita praticamente chiusa con grande spettacolo, ci provava anche Daniele Bosco, Mai Domo, gran partita anche di Palazzolo che ha fatto veramente bene in questa gara anche perché Della Negra ha fatto ruotare tutti e Zurlo ha firmato la tripletta sul suo piazzato al termine del secondo tempo. Nella ripresa ha tirato un po' il fiato la formazione rossa-azzura di Della Negra, fisiologicamente ha concesso tanti tiri liberi, alcuni trasformati proprio dalla Catanese, del mestre arrabbiato per questi gol, però poi alla fine tutto è stato legittimato dalla forza e soprattutto dalla superiorità. Per l'8-4 finale Catania va in semifinale, ancora una volta come dicevamo per il quinto anno consecutivo ancora a Terracina, la terra che potrebbe regalare le emozioni di Coppa Italia. Domani sarà scontro contro la San Benedettese, una gara molto ma molto importante, una gara ancora che ripeterà quella che è stata la semifinale dello scorso anno decisa a 30 secondi dal termine da Rodrigo. Insomma mettetevi comodi, lo spettacolo è assicurato. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS